Ancora non abbiamo capito come si inizia in realtà. Non ne ho idea. Ciao! Ciao, io sono Giulia. Io sono Jacopo. E questo è Zitto e Guarda. Un podcast dove io faccio vedere un film a Giulia o lei fa vedere un film a me. Esatto, e poi ne parliamo. Nella scorsa puntata ho costretto Jacopo a vedere Anna Montana dei Movie. È stato un momento. È stato un momento. Che ricorderò. Per sempre. Per sempre. Però, se ti ricordi, nello scorso episodio ci avevi detto che, per curiosità, avresti visto il primo episodio di Anna Montana. Io voglio sapere se lo hai fatto e nel caso dacci qualche info. L'ho fatto. L'ho fatto, mi confesso, deluso. Oh no! Non dall'episodio in sé, ma perché semplicemente non c'è una giustificazione per Anna Montana. La serie inizia che Anna Montana già esiste e non mi sta bene questa cosa. Volevo vedere come le veniva l'idea. Però, in realtà, c'è un episodio più avanti dove lo spiegano. E mettilo prima. Cos'è questo montaggio sovversivo di Anna Montana? Cioè, metti le cose all'inizio così io posso vedere. Eh, invece no. E invece no. Quanto è questo carino, sì. Come dicevo, ci sono le pause per quando la reggente deve ridere. È molto piccolina. Anche perché nel pilot aveva dodici anni, forse. Poi quando hanno iniziato a registrare, era già più grande, però proprio il pilot l'hanno girato, che era piccola piccola. Ah wow, no, non ne avevo idea. Però ho avuto un momento elevatissimo quando è arrivato Chad. In High School Musical si chiama Chad. Nella serie non mi ricordo assolutamente, però sì, era il primo Love Interest. Poi, cioè, è stato tolto dopo gli episodi. Sì, eliminato, è andato verso altri orizzonti. Esatto, esatto. E dai, però sono contenta che ti sia piaciuto questo primo episodio. Però adesso tocca a me. Oggi siamo qui perché Jacopo deve farmi vedere un film. Io sono terrorizzata, ma allo stesso tempo ho molto hype, ho molta paura, ma molto hype. E fai bene, fai bene, perché la selezione di questo primo film per me è stata abbastanza difficile. Non sapevo bene come orientarmi, perché tu sei partita col botto e avevo paura di non essere all'altezza. E invece? Allora ho fatto l'unica cosa sensata e per cercare un film che mi rappresenti sono andato a spulciare il mio anno di nascita, perché questo film è del 1994. Oddio, aspetta, ma prima mi dai anche tu degli indizi, delle parole chiave. Ok, 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 dai, non vedo l'ora, vai. Dicevo, sei partita col botto, questo è un film del mio anno di nascita ed è pieno di esplosioni. Se è pieno di esplosioni inizio a sospettare che ci sia di mezzo Michael Bay. E invece no, invece ti sbaglieresti, perché... Oh cavolo, mi prendi così? Ho cercato qualcosa di ancora più iconico. Oddio! Ma veniamo subito agli indizi. Vai, vai. Il primo indizio è significativo per noi due, perché è le persone sexy non sanno guidare. È bellissimo! Ok, le persone sexy non sanno guidare, grazie, lo so. Lo sappiamo. Ma anch'io, eh, per... È vero, esatto. Per gli spettatori. Nessuno di noi sa guidare. E per questo siamo sexy. Anzi, tutto ciò che sappiamo sulla guida lo sappiamo contro la nostra volontà, questo è... Totalmente, sì. Poi, secondo indizio, questo è per te specificamente, Metro Blu di Milano. Metro Blu di Milano? Questa cosa mi manda completamente... Cioè, non... Vabbè, ok. Il terzo indizio è... Devi trovarlo nel film, questo. È il più complicato da trovare, secondo me. Oh Gesù, va bene. Ma sarà... Corazzata Potionkin? Oh, ma che... Così, a random! Esatto, no, no, ha un senso. Oddio, sai che forse ho capito? Non credo, perché l'ultimo indizio, il più facile, l'ho messo alla fine. Ok, ok. Ed è autobus. 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 Ma non è... Non è facile in realtà. Non capisco. Allora, aspetta, quindi, allora. Mi hai parlato di auto di guidare. Quindi all'inizio ho pensato Fast and Furious. No, ma che ti pare. Però no, ovviamente no. Molto più iconico. Corazzata Potionkin mi fa pensare a quel film dove c'è quella sparatoria in una stazione. Quello è gli intoccabili, scusa, ma non volevo scomodare De Palma così, a caso, proprio subito. Ok, no, è giusto, hai ragione. Troppo, troppo. No, no, quello mettitelo da parte perché devi proprio trovare il momento del film. Ok. Tu pensa agli autobus e pensa alle persone che non guidano. Agli autobus e le persone che non guidano. Quindi le persone che non guidano e quindi prendono l'autobus. Esatto. A Milano. No, a Milano perché sei tu, perché ci vivi. Nella Metro Blue. Ma perché poi la Metro Blue è quella nuova, la stanno facendo adesso. Ci sono solo un paio di fermate. Esatto, ma tu vedrai, vedrai. Dai, scendiamo piano piano. Ripeto, questo è un film del mio anno di nascita. È stato, dopo Il Re Leone, il film di maggiori incassi di quell'anno. Cosa? Esatto. Non sono, no, ok, boh. È un film di Jean de Bont, che ha diretto questo e basta. Ha come protagonisti, in ordine di importanza sulla trama, Dennis Hopper, Sandra Bullock e Keanu Reeves. Jacopo, io ti voglio veramente... Grazie perché mi fai vedere un film con Keanu Reeves. Posso dire il momento più felice della mia giornata questo? Lo so, anche il mio. Che gioia, che gioia, ok. Sono già felicissima di poter vedere Keanu. Poi negli anni 90, mamma mia, ragazzi. Il momento più felice della mia giornata è dire il nome Keanu Reeves. Sì, sempre. E il film che vedrai è Speed. Oddio, ma sai, non l'ho mai visto e non so nemmeno di cosa parla. Niente, non so niente. Sai che forse l'unica cosa che so su questo film è che Sandra... Perché io ovviamente so solo i gossip. Cioè, il mio sport preferito sono i gossip delle star. Però so che Sandra Bullock e Keanu Reeves avevano rispettivamente una crush per l'uno per l'altra, ma non se lo sono mai detto durante le riprese. Esattamente. Questo era il trivia finale che volevo darti dopo che avessi visto il film. Ma vabbè, sei troppo avanti. Questo io sono troppo, esatto, so tutto, purtroppo. Anche qua, spesso contro la mia volontà, però so sempre tutto. Ma vedrai che... si vedrà, si vedrà questa cosa nel film. Questa crush. Cioè, della chimica. Madonna se c'era la chimica. C'era la chimica del sudore. Beh, sono gli anni 90, quindi sono quei film sudati. Ecco, ti posso fare l'unica indicazione, perché so che ti piacerà. È ambientato a Los Angeles in estate. E, se non lo sapete di me e di Giulia, a noi mancano molto i film ambientati d'estate dove la gente suda. Esatto. Se guardate dal 2009 in poi, nei film, la gente non suda più. No, esatto, c'è sempre questa patina molto... molto patinosa, non so come chiamarla. Per cui le persone... oddio, sto perdendo la voce piano piano. Cioè, questa patina molto patinosa, per cui le persone sembra che siano un po' di plastica. Mentre nei film degli anni 90 sarà perché... Oh, cos'era la pellicola? Però non penso che tutti girassero in pellicola ancora negli anni 90. Qualcuno in digitale girava, dai, o no? Probabile, ma il punto è che, secondo me, generalmente i truccatori mettevano più umidità sugli attori. Non lo so. Più umidità. C'era più umidità. Esatto, e a me questa cosa mancava e, visto anche il tempo che c'è fuori, ci sta vedere un po' di sudore, secondo me. Ti farà bene. È gennaio, per chi non lo sapesse, stiamo girando in gennaio. È vero, ora è gennaio. Però io in questo momento sono in Sardegna e qua ci sono 20 gradi, quindi mi sentirò un po' come a Los Angeles in estate. Ah, quindi full immersion in questo film. Sì, oddio che bello. Sono contento di vedere un film con Keanu Reeves, sono proprio felice. Ma tu quindi non sai niente, cioè non puoi nemmeno dirti cosa ti aspetti da questo film. Allora, vabbè, mi aspetto corse in macchina, perché mi hai accennato questo. Autobus non lo so, a questo punto mi immagino una roba tipo Keanu Reeves che per salvare qualcuno deve guidare un autobus e quindi fa mille incidenti, cioè una roba del genere. Boh, non lo so. Ingenuo. Io voglio che presti attenzione soprattutto all'entrata in scena di Keanu Reeves in questo film. Ma guarda, non dovevi neanche dirmelo. Avrò occhi solo per lui. No, no, perché è difficilmente dimenticabile. Ok. Proprio il livello di ignoranza degli anni 90 arriva a tutto. Che bello, che bello. Jacopo, grazie. Mi stai svoltando la giornata, te lo dico. Il podcast serve a questo. Devi scoprire film che non hai visto e io ti costringo a vederli. Quindi devo vedere il suo film? Oddio. Devi. Sei pronta? Sì, sì, sono pronta. Sono prontissima. Keanu a noi due. Allora ci vediamo dopo. A dopo. Oddio, ma c'è il film è inizio da tre secondi e uno è già stato impalato malamente. Adoro. Cosa? Ma questa macchina ha fatto tipo... Cioè, scusa, ma c'è una macchina che è letteralmente volata. Keanu, è lui! Non ci vediamo. È bellissimo. Mi sento male. Oddio, l'autobus. È esploso. Era questo l'indizio? Ho paura. Ma that's one cosa. Hanno sparato all'autista. What the fuck? Aiuto. Questo film è pieno di cose comunque. Cioè, succede una roba assurda ogni tre secondi. Pets! Sono arrivata... La corazzata a poteocchi. No, vabbè. Con la culla a pie... La culla, sì. Il passeggino pieno di lattine. Cioè, posso dire poesia, questo è cinema, più film così. Perché abbiamo smesso di farli? No, lui che urla perché pensa di aver preso il suo amico. Che ovviamente non sarà morto, dai. Cioè, io non ci credo che è morto così. Eccola la metro! Devo ancora capire perché è quella blu, però... Ma cosa dici? Cioè, non ci credo. È stato decapitato? In che senso è stato decapitato? Sono giocata! Sono giocata! Oddio! Ehi là, bentornati! Salve! Allora, com'è andata? Bene, è andata molto bene. Tanto che... Allora, ho finito il film. Ti ho scritto che l'ho finito. Nel tempo in cui abbiamo aspettato prima di registrare, mi stavo guardando tipo le interviste a Keanu Reeves e Thunder Bullock. Sì, aveva una crush per lui. Io tipo, addio! Bellissimi! Allora, partiamo dagli indizi che mi hai dato, no? Certo, partiamo. L'hai trovati tutti? Vabbè, autobus, dai, sì. Si poteva fare. Sì, mi hai confuso con autobus perché pensavo ti riferissi al primo che esplode. Ah, è vero. All'inizio. Ho detto, ah, ecco, era questo. Poi dopo ho iniziato tutto, ho detto, no, era questo l'autobus. Perché era molto strano che tu non conoscessi neanche la premessa di Speed. Zero, niente. Se vuoi riassumere ai nostri ascoltatori magari si fanno un'idea. Esatto, allora. Per quei cinque di voi che non lo sanno. Un film che si chiama Speed. Io immagino che ci siano degli inseguimenti in macchina, no? E più o meno ci sono. Però in realtà quasi tutto è... Allora, la prima parte c'è tipo questa cosa di un ascensore che rischia di esplodere. La seconda, invece, è un autobus che rischia di esplodere. E dove c'è il nostro mitico Kianu che deve cercare di salvare tutti nell'autobus. Dentro l'autobus, ovviamente, c'è Sandra Bullock. Ma l'autobus cos'è che non può fare? Eh, esatto. Perché questa premessa mi ha tipo... A parte che non l'ho capita perché, vabbè, io non capisco niente, Diego. Ma c'è da capire. Aspetta, adesso te spiega. Allora, non avevo capito perché, allora, l'autobus, praticamente, se supera i cinquanta chilometri orari... Aspetta, attiva la bomba. Sì. Ok. E poi... Cioè, allora, appena... No, non era così, ho sbagliato. Stiamo andando male. Quando raggiunge i cinquanta, quindi hai cinquanta, si attiva. Ok. Se invece li supera, quindi va oltre, esplode. E se... No, no, non era così. Ah, no, e se si rallenta. Se rallenta. Giulia, l'hai visto mezz'ora fa. Te l'ho detto che non avevo capito. Tu non lo sai, ma c'è una gag uguale con Homer Simpson che cerca di ricordarsi la trama di Speed e non riesce. Io? Io uguale. No, ma... Ma perché? Ma adesso ti spiego. Io ho tante difficoltà in generale con i numeri. Poi se ci metti anche le macchine e il loro funzionamento, cioè, bobo, ciao. Quindi, praticamente, quando loro hanno detto il fatto del... Cioè, non devi... Devi stare nei cinquanta, no? Io dicevo, ma li ha già superati i cinquanta. Perché avevo calcolato il fatto che la macchina può arrivare tipo a cinquantanove, poi fai sessanta e quindi lì superi i cinquanta. No, per me, cioè, superati i cinquanta, eri già a sessanta. Non aveva senso. Vabbè, scusate, sono stupida. Vabbè, l'importante era l'autobus esplode se va sotto le cinquanta migliorarie. Esatto, però la bomba si attivava andando... Cioè, arrivando a cinquanta. Sì, va bene. Giusto, ok. Esatto, sì, sì. Però allora perché dovevano restare tre cinquanta? Cioè, tutto un pezzo dove stanno tre cinquanta? No, doveva stare above, sopra. Non ti stai complicando la vita senza me. Ah, ok. Senza motivo. Eh, vedi, non avevo capito, cazzo. Vabbè. Tu saresti esplosa, però. Sicuro. Dopo due minuti. Vabbè. Un chiodo in autostrada. Totale. Cioè, io. Vabbè, dopo una spiegazione fin troppo complicata di una cosa molto semplice, dici tutto. No, scusate, continuo a immaginare tu che il produttore di questo film che devi fare, no, il pitch in ascensore e provi a spiegarlo. Allora, se va sopra, no, 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 se va sotto, se non va, poi esplode. Hai presente il meme di quel signore tutto sudato che è inicale, io, in questo momento. Allora, se va, oltre i cinquanta. Ti davano trenta milioni solo per farti smettere, vai, fai quello che devi fare. Vada, vada, prego. Le diamo tutti i soldi che vuole, basta che la smetta. Jacopo, mai più film con numeri, perché sennò... Vada, allora. Comunque, ho apprezzato moltissimo la CIT alla Corazzata Potionchi, perché, ragazzi, geniale. Ho riso veramente di gusto. Perché c'è proprio... Allora, immaginatevi questo autobus che non si può fermare perché sennò esplode e quindi, tipo, viaggia. E non può fermarsi in alcun caso, nemmeno se c'è qualcuno con una carrozzina, ok? Quindi c'è tutta questa gag per cui due persone si salutano, una va via e quella che va via la carrozzina deve attraversare proprio mentre sta passando il nostro autobus esplosivo. E tu dici, cazzo, adesso, no, ragazzi, come faremo? Investiremo un bambino? Ma si può fare? È legale, anche se è finto. E niente, comunque, e quindi c'è una scena simile a quella della Corazzata Potionchi dove, sai, c'è questa carrozzina che va, che va. Solo che questa, questa viene lanciata dall'autobus e lì, e lì scopriamo che in realtà era piena di lattine. Di birra. Geniale. Tra l'altro la carrozzina, anni trenta, tipo, no? Sì, 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 tipo, apposta. Assolutamente a caso. Metro Blu di Milano mi ha messa in serie difficoltà perché all'inizio non stavo capendo. Ah, perché era la fine. Era la fine. Esatto, esatto, all'inizio non stavo capendo. Ma anche all'inizio di quando entrano in metro, perché ci sono delle scene anche girate in metro. E anche lì dicevo, ok, siamo in metro, però non sto capendo perché quella blu, che cosa di speciale. Poi ho iniziato a dire, magari è il colore, però c'era più rosso e allora ho detto, magari Jacopo si è sbagliato. Tu pensi sempre a troppe dimensioni, in realtà è un po' semplice. Hai ragione, mi fa so troppe segmentare. Il binario della metro non era finito e allora, ah, che è in Milano, che è una metro che non finirà mai. Però mi ha fatto ridere, cioè, quando sono arrivata al punto in cui si capiva che era una metro in costruzione ho detto, ecco perché era la blu, incredibile, genio. E poi l'ultimo, che è stato forse, diciamo, l'indizio che si è protratto per più tempo durante il film, persone sexy che non sanno guidare. Cioè, si potrebbe descrivere così questo film, effettivamente. Nella sinossi, questo. Persone sexy che non sanno guidare. No, ho preso appunti perché oltre a questi indizi che tu mi hai dato, mi sono segnata alcune scene che mi sono piaciute tantissimo. Dai, dai, dicci tutto. Vabbè, partiamo con l'ingresso di Keanu Reeves che tu mi avevi, no, mi avevi detto fai attenzione e io ho fatto attenzione ed è stato bellissimo. Forse è una delle cose più belle che io abbia visto nella storia del cinema. Perché lui, ve lo dico, fa il suo ingresso in scena con questa macchina che letteralmente vola. C'è una specie di dosso, non so come definire. Sì, sì, c'è un'inquadratura di una cunetta e poi un rumore fortissimo e la macchina che fa tipo sei metri di volo per arrivare sul posto. Sì, poi fa tipo una sterzata pazzesca, clamorosa e chi c'è dentro la macchina? Keanu che scende tutto figo con la sua gomma che mastica. Ecco la gomma. La gomma è un elemento del film che è bellissimo, anni 90 ovviamente, ma mancava solo che la facesse scoppiare. A me ha fatto molto rire perché guardando le interviste il regista ha detto che io e Keanu abbiamo deciso di far masticare una gomma al personaggio per rafforzare il suo senso di inadeguatezza e io questa cosa non l'ho capita assolutamente. Sono così felice che abbia detto questa cosa perché mi faccio mille viaggi ogni volta che guardo il film e cerco dei momenti in cui magari la mastica in modo diverso. A un certo punto mi aspettavo se la mandasse giù, non me la spiego. Da anni, sono vent'anni che guardo questo film e vent'anni che non me la spiego, però Jean Dupont ne sa molto più di noi, a quanto pare. Ma ci sto pensando, sai? Sto cercando di immedesimarmi, no? Minchiano che sta costruendo questo personaggio. Cioè, più che altro perché lui non mi sembra almeno neanche all'inizio uno che si sente inadeguato. Magari è più uno che sfida un po' il fato, però lo fa fino alla fine. Però non è che abbia chiavi di lettura particolarmente impegnative, secondo me. Oppure ci sono, ma noi non ci arriviamo. No, noi non ci arriviamo. Noi non siamo Chiano... Noi non siamo Chiano Reeves. Questo non mi permetterei mai di dirlo perché il suo... Vorremmo. Dopo che in Ortega c'è Chiano Reeves. C'è Chiano Reeves. Dovrebbero fare un film insieme, dici. Sarebbe bellissimo. Mamma mia. Speriamo. Prima o poi. Però sì, a me questo film mi piace perché rientra in quella categoria. Vabbè, film d'azione, ma lo metto in quella macro area. Film dove il protagonista ha la giornata peggiore della sua vita. E più avanti il film più è pieno di tutto. E alla fine vince soltanto perché è... Cioè, non ne ha mezza, capito? Questa giornata deve finire. A un certo punto questa cosa deve finire e infatti finisce. E questa descrizione di film non è molto coerente. Però ce ne puoi mettere tanti dentro. È vero. A me piace tanto. No, no. È molto... È vero. Descrive molto bene questo film. E poi, ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta tanto sono i continui colpi di scena. Di cose improbabili che succedono. Cioè, tu credi che questo film vada in una direzione e poi a un certo punto no. Perché qualcosa esplode. Qualcuno perde qualcosa. Ma che ne so, cioè... Per fermare questo autobus hanno fatto veramente qualunque cosa. E a un certo punto io dicevo... Adesso... Come faremo? Come faremo? Come faremo noi? Ragazzi, no. Io ovviamente tifavo per loro. Però devo dire che è proprio questo che ti tiene un po' incollato al film. Sì, è un film che si chiama Speed e infatti non si ferma mezzo secondo. Cioè, una volta che parte questo, continuano a succedere cose. A me piace perché tutti i personaggi, anche quelli super secondari, comunque sono minimali. Ma quando finisco il film non vorrei vedere un seguito. Vorrei vedere, tipo, la sera al bar che si ritrovano per parlare di sta giornata a tutti quanti. Cioè, tutte le persone sull'autobus vorrei dire, cazzo, si saranno fatte una birra alla fine di sta storia per, no, per decompressione, qualcosa. Vorrei troppo vedere quella scena. Ma no, questa cosa mi ricorda, sai, Avengers? Che poi c'era stata quella scena di loro che si mangiavano il panino dopo la battaglia di New York. È vero, sì. Anche lì, vedi, giornata peggiore della loro vita, però poi basta. Cioè, ci andiamo a mangiare. Un Big Mac, dai! Parlando di, appunto, di film degli anni 90. Perché la premessa era, ci mancano i film dove la gente sudano. Qua sudano, eh? Qua sudano tanto e ci sono tante cose che proprio mi mancano di quel cinema. Vabbè, il sudore. Poi, le intro, cioè, quindi, i titoli di testa che durano un botto. Non so se ti ricordi, cioè, duravano tantissimo questi titoli di testa, scusate, titoli di testa. Duravano un sacco, non so perché. Eh, sì, certo. Però era bello perché, io mi ricordo, quando ero piccola, che mi metteva proprio, sai, ancora più hype. Il film sta per iniziare, il film sta per iniziare. E adesso cosa succederà? E qua fanno lo stesso con i piani di questo, cos'è, un grattacielo. Sì, sì, la tromba dell'ascensore, del grattacielo, con la telecamera che scende e ogni volta che passa davanti a una colonna esce il titolo con l'attore, il regista, tutti fatti tipo con paint. Palese. Sì, bellissimo. Sì, mi ricordavano, sai, i titoli su Word, quando mettevi WordArt e cambiavi le cose all'elementare, tipo, io faccio queste robe. Poi, appunto, dura tanto e ti introduce poi direttamente a quello che succede, perché letteralmente tutta la prima metà del film è dentro sto ascensore. Anche perché poi, cioè, per me almeno la colonna sonora di questo film spacca, non ho idea chi l'abbia fatta, però parte subito e io penso a un autobus impazzito che sta per esplodere. Lo so che è una stronzata, però è, cioè, funziona, non lo so, è talmente a poco livello questo film, è tutto così palese che, cioè, tu hai un'ora, quanto dura, due ore? Due ore, sì. Due ore di questo ed è uno di quei film che potrei rivedere in loop perché non mi annoio mai, ci sono sempre dei mini dettagli che mi fanno ridere. Tutti i poliziotti scazzati che non ne possono più, tutta la gente di Los Angeles che molesta, si fa gli scherzetti e il tipo che non fa prendere l'autobus a Sandra Bullock all'inizio. È vero. Tutte quelle cose, il turista che rompe le palle a lei. Oddio il turista, ma tra l'altro il turista è l'amico di Ferris Bueller in Ferris Bueller Day Off, non me l'aspettavo, ero veramente felice quando me ne sono accorta. E c'è anche un altro attore che è il collega biondo di Chiano. Jeff Daniels. Esatto, che ha fatto la carica di 101. Ma in che ruolo? Io non mi ricordo. Se non sbaglio faceva cosa? Ruby, Rudy, Rudy, scusa, il papà di Pongo. Il papà di Pongo, ok. Non so perché a me pensavo facessi tipo Razio Gaspar, no. No, lì c'era coso? Doctor House, com'è che si chiama? Ah, è vero. Wow. C'era un cast assurdo in quel film, anche quello lo vedremo tanto. Aiuto. Spoiler. Ops, no, no, c'era lui che mi dicevi, no ma non potrà mai essere morto il suo amico, e invece? E invece, io ragazzi ho creduto, cioè io speravo, vedi questo film, proprio quello che ti dicevo prima, questo film ti fa credere, no? Perché tu dici, tanto non muovere, ma figurati se muove il suo amico, cioè amici da una vita, si sono salvati la vita vicenda. E invece cazzo, ti fa soffrire. Sì. È incredibile, e poi anche appunto, cioè c'è la scena dove c'è Chianu che scopre di questa cosa, della morte del suo amico, inizia a sbattere, sclerare. Bello, è stato bello, molto intenso, con Sandra che fa, no ti prego, non abbandonarmi adesso, io. Eh sì, ma è come... Sposatevi ora, per favore. Come fa prima lei, quando lei è nel panico perché è morta la vecchietta e lui la cazzo, capito? È la chimica. No, mamma mia ragazza. Chiano Reeves è un grande attore, Sandra Bullock si sa anche, sì. Ma certo. Ma è più sdoganata come brava attrice, invece Chiano qualcuno ancora ne parla male. Come si permettono. Non lo accettiamo. No, faremo un simposio su un Chiano Reeves bravo attore. Assolutamente sì, io sottonissima per questa coppia comunque, volevo dirlo. Assolutamente. No, però volevo parlare un attimo del cattivo invece. Anch'io volevo chiedersi del cattivo. Allora, ci sono due cose che mi hanno fatto troppo ridere, ma proprio, cioè, morta, io morta. La prima, lui quando si accorge che lo hanno fregato, perché lui praticamente spiava le persone dentro questo autobus che doveva esplodere, attraverso una videocamera, allora loro hanno scoperto questa cosa e hanno cercato di fregarlo facendo una registrazione e mandandogliela tipo in loop in modo che lui vedesse sempre il solito loop. E come si accorge lui del loop, perché una signora fa cadere una borsetta e quindi... Esatto, c'è un errore di continuità. Esatto. Lui lo vede e fa questo urlo, tipo Darth Vader con Luke. Cioè, capito? Quella scena lì fa... Nooo. È quello che ti volevo chiedere. Il cattivo è così caricato che... È così cattivo. Sì, ma poi, cioè, l'attore, per tre quarti del film, è da solo in una stanza. Sono pochissime le occasioni di interazione con altri attori. E quindi lo vedi proprio che ci dà il 600%, anche se non ha nessuno a calma. Massimo parla al telefono, no? E niente, a me questo è super affascinante, perché sembra uscito da un cartone del sabato mattina. Esatto, mi ha ricordato i cattivi delle serie tv dei supereroi. Sai, tipo Spider-Man o Batman. A me è quello delle corse pazze, non so se lo guardavi. Ah, sì, certo! Esatto. Certo, oddio, che ridere. Che letteralmente fa un buco sotto il cestino per rubare i soldi da so... Cioè, dai... Questo dovete vedere il film per capirlo, ma vi incoraggio a farlo. E soprattutto a un certo punto non mi ricordo quando... Ah, sì, quando lui è sulla metro, che ha finalmente preso i soldi, li apre e gli scoppia la vernice blu in faccia e fa questo tipo... My money! Una cosa del genere che mi fa spaccare, perché proprio... Sì, 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 poverino, non se l'aspettava. Quando la macchinetta del caffè mi mangia i soldi, io sono uguale, così... My money! My money! Poi dai, quanto è camp, tutte le battute? Tutto. Io sono più furbo, io sono più alto. Lui, lui è un'icona. Un'icona e fa anche una fine da icona. E qui veniamo alla seconda cosa che mi ha fatto morire, ovvero il modo in cui viene sconfitto, perché crepa male. Ma, raga, proprio crepa male. Cioè, praticamente, abbiamo detto, no, che l'azione poi si sposta in una metro. E c'è questo momento in cui... Allora, prima Chianu va sul tetto della metro e cerca di raggiungere il vagone dove sta il super cattivone insieme a Sandra Bullock. A super velocità. Esatto. Ma il cattivone se ne accorge e inizia a sparare. Ma Chianu schiva tutti i proiettili. E qua io ho detto, this is the matrix. È l'eletto. Poi, dopo questa cosa, i due iniziano a combattere, praticamente, corpo a corpo. Sul tetto. Sopra la metro. Esatto. E ogni tot metri sul... Dove passa la metro, insomma, i tubi, come si chiamano? Quelli. I intercapedi, non lo so. Quello, vabbè, comunque. Ci sono degli aggeggini che segnano qualcosa che io non so. E quindi Chianu, comunque, riesce a far sbattere la testa su uno di questi aggeggini al nostro mega cattivone. E io dicevo, vabbè, lo stordirà. Raga, lo decapita. Lo decapita. Cioè, lo decapita. No, infatti, c'è quella cosa super anni 70, 80, 90, dove fanno vedere una cosa cruentissima, ma soltanto per tipo un quarto di secondo. Io scioccata. Sì, che si vede proprio la testa che si stacca e va indietro. Sì. E poi tagliano subito. Sì. Era bello. Erano cose belle. Ma poi io non me l'aspettavo, capito? Perché mi aspettavo, sai, il cattivo ci starà, no? Il suo mega discorso dove spiega tutto quello. No, no. Invece no. No, lo fanno crepare. In un modo mega truculento. Ma ho amato. Così come è arrivato, crepato. È giusto. Incredibile. No, giuro. Bellissimo. Che poi noi, in realtà, stiamo descrivendo queste cose che sembrano molto, non lo so, mid. Però è vederle nel film che le rende tutte... Sì, esatto. È tutto così extra. È tutto molto esagerato. E anche questa cosa è estremamente esagerata. È fatto a perdere. No, però è esagerato, ma non è spinto. No, no, no. Era proprio così. Cioè, era un periodo anche, a livello sia filmico che culturale, che tutto quanto, in cui, vabbè, gli anni 90 le cose andavano molto bene per tutti. C'era il boom economico, non era ancora arrivata la crisi, così. Quindi c'era questa enfosi sullo spettacolo fine a se stesso, che... No, anzi, no, scusate, non fine a se stesso. Lo spettacolo di qualità, però. Cioè, è tutto molto grezzo, ma allo stesso tempo è fatto con molta cura. Cioè, le inseguimenti in autostrada sono girate su un'autostrada vera, che hanno dovuto chiudere. E leggevo sempre nelle interviste che ogni volta che sbagliavano un Chuck, tutte le macchine di quella scena dovevano andare a marci indietro, tornare in posizione, riprendere la velocità e si ripara... cioè, era una roba. Questo sta diventando super retorico, per cui non fanno più i film di una volta, non vorrebbe essere questo. Hai ragione. Quello che cerco di dire è proprio che era un momento diverso e c'era, non lo so, più respiro per fare certe cose. Ah, un altro trivia che magari non sai è che all'inizio andarono fuori budget appena l'autobus si fermava, esplode l'aereo, esplode anche un aereo, vabbè, spoiler, tra le altre cose, esplode l'aereo e poi non avevano più soldi, non avevano niente. E tutte quelle scene le avevano soltanto in storyboard, con tipo filmuto, quindi disegni di quello che succedeva. E alle test audience, si chiamano, quando fai vedere il film prima di mandarlo fuori, hanno fatto vedere solo quelle parti e la gente era comunque super in estasi e quindi hanno detto, vabbè, datti altri sti dieci milioni per girare le scene in metro. È una cosa che oggi è abbastanza inaudita. È super retorico questo discorso, mi dispiace, mi sento vecchio a farlo. Ma no, no, però io sono d'accordo. Era proprio un modo diverso di fare le cose perché c'era la possibilità di farle in modo diverso. Come, sai, l'adagio, ogni film è un piccolo miracolo, questi sono tanti piccoli miracoli messi insieme su un'autostrada che poi esplode. Che bello, che meraviglia. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto e che è molto anni 90 e quindi richiama quel cinema e quel po' ci manca, sono le battute. Un sacco di battute che fanno ridere, tra l'altro. Cioè, che non mi aspettavo. Non mi aspettavo di ridere così tanto guardando questo film. Una in particolare me la sono segnata perché è stupidissima, ma vi giuro, cioè io ho riso troppo. C'è una scena in cui Keanu Reeves deve cercare di disinnescare una bomba. Lo fa, questa cosa, tipo ogni cinque minuti nel film. Però, in uno di questi momenti deve stare al telefono con il suo collega che gli dice che cosa fare, ma non può perché la bomba è sotto l'autobus e quindi tutto girato, non si capisce. Allora dà il telefono ad un altro tizio che è il famoso turista che è finito lì per casa. Allora questo turista fa da tramite, no? E quindi Keanu dice una roba, il turista la dice all'amico, l'amico risponde e il turista lo ridice a Keanu, ok? E insomma, Keanu ad un certo punto un po' imprega perché è pieno, non ne può più. E dice una roba tipo fuck me, una cosa così. E vedi proprio la faccia del turista che fa un po' interdetto, rimane... E traduce questa cosa all'amico, esatto, e fa... Oh, damn! E vedi, ma vedi, sono quei momentini che non servono a niente, però dà colore, cioè... Sì, tantissimo, cioè mi ha fatto morire dal ridere questa cosa. Che appunto è banale, è sciocchina, però è divertente il fatto che lui non voglia ripetere la parolaccia e quindi... Soprattutto perché le battute non sono autoreferenziali, cioè nel contesto sono prese molto sul serio, quindi è... Boh, bello! Noi a descrizione stiamo al top, cioè bello, divertente, carino. Cioè bello, tio, bellissimo. Scusate che in due abbiamo studiato un totale di dieci anni questa roba, però ancora stiamo agli aggettivi. Ma sì, ma sì. Ma perché tu studi, studi, studi e poi dici, sai cosa? Questo film è bello, non voglio dire altro. Mi piace, mi ha fatto ridere. Altra cosa? Bella la fotografia. Cheat. Però su questo mi vorrei riagganciare ad un discorso che io e te facciamo sempre, ovvero delle immagini belle crisp. Eh sì, ma quella è la pellicola, cioè c'è poco da fare. Hai ragione, purtroppo era quello, però è sempre bellissimo tornare in quel mood. Non so se è perché siamo... Sicuramente sì, cioè è perché siamo cresciuti con questo tipo di film e quindi li ricolleghiamo, almeno io mi sembra di guardare un film, mentre adesso con il digitale, con le immagini magari anche superfluide, eccetera. Mi sembra più di vedere un video su YouTube che è un film. Non so se tu hai questa percezione ogni tanto. Allora sì, io ho questa cosa, nel senso sì, nostalgia, mi ricordo le cose con la pellicola perché per un sacco di anni le ho viste così, anzi io e te fino al 2009 in sala c'erano ancora pellicole, cioè io non la sapevo questa cosa. È stato, mi sembra Avatar che ha costretto a passare tutti al digitale perché le pizze erano troppo grandi, il 3D, insomma, dal 2009 in poi tutti i cinema, anche in Italia, sono passati al digitale. In realtà ho avuto un periodo in cui dicevo, vabbè, però costa meno perché il digitale costa molto meno e può aver senso per, che ne so, una piccola produzione girare in digitale, anche a livello di spreco, se sbagli qualcosa in digitale, bella, cioè, lo cancelli, ora non si fa mai, però si può fare. Il digitale è uno strumento anche diverso che ti permette di fare altre cose, vedi appunto, che ne so, Avatar o tante cose diverse, quindi cerco di stare... Un po' in mezzo. No, cerco di capire, cioè a volte non posso dire che l'ha girato, in pellicola, quindi automaticamente è più bello. Primo, una volta c'era solo quella, quindi, cioè, che c'è da fare? Giravi in pellicola perché c'era la pellicola. Volevo giusto fare una piccola spiegazione, cioè abbiamo usato il termine pizze, magari qualcuno non sa cosa vuol dire pizze. Allora, la pizza, per chi non lo sapesse, non è la pizza margherita, quella che si mangiamo tutti, ma la pellicola, cioè il rullo, come si chiama? È il rullo di... il cerchio dove è avvolta la pellicola. Esatto, si chiama pizza. Grande, quindi mi hai fatto sentire non vecchio di più, cioè... Ma magari qualcuno agli anni nostri o è anche più grande, ma non sa che si chiamano pizze, capito? Per specificare. Mi sento comunque giurassico. Molto vecchio, no. Questo film alla mia età e quest'anno compie trent'anni, quindi fate voi, fatevi due conti. Lui compie trent'anni, io ci sto pensando. Vediamo, se ci gira li compiamo questi trent'anni, se no, ciao. Sai quelle cose che leggi sui social? Posta un film del tuo anno di nascita e io posso andare a colpo sicuro con Speed, perché c'è Keanu Reeves, l'autobus che esplode, Sandra Bullock, la grana, cioè, meno male. Fantastico, vabbè. In questo un po' ti capisco perché io, nata nel 95, posso giocarmi la carta Clueless, quindi... Che comunque, infatti. Che comunque, un signor film. Che ho visto, però, quindi mi spiace. Bravo, e quindi non sarà in questa mannaggia. Vedremo, vedremo. Però sì, diciamo che è proprio quell'epoca, come puoi vedere nel film, che finisce tutto bene, è tutto felice. Non c'è neanche un vero... C'è un climax, ma non c'è un finale. Cioè, risolvono questa cosa del cattivo, se baciano, amore tutti, dittori di coda, e uno era contento. È proprio un... Boh, era un mondo più ottimista? Non lo so. Sì, assolutamente. È super retorica, sta puntata. Mannaggia, non volevamo fare i vecchi. L'evoluzione della società dal punto di vista di Speed, 1994. Boh, è un'altra epoca. Sì. È wow. No, era un'altra epoca, assolutamente, ma, cioè, chi se ne frega se sembriamo retorici. Ci dispiace, però è anche vero che era divertente. È così ed era divertente, insomma, ai tempi. E a me mancano molto questi film. Infatti mi piace riguardarli adesso. A me manca vederli in televisione, perché io Speed, ovviamente, non l'ho visto al cinema, perché avevo... Zero anni. Quindi non potevo, però erano quelle robe che vedevi a casa dei nonni il sabato mattina, in televisione, pomeriggio, così. Assolutamente. Sai cosa mi ha ricordato? Italia 1. Su Italia 1 davano tutti questi film belli... Il film da Italia 1, perché poi lo iniziavi e ha già iniziato, però capivi tutto esattamente... Cioè, io mi ricordo questa cosa, la parte dell'ascensore non l'avevo mai vista. Io ho iniziato il film a vederlo la prima volta che loro saltavano il buco nell'autostrada con l'autobus. Cioè, io tutta la parte prima assolutamente me l'avevo persa, però era talmente semplice e chiaro il problema che... Certo, non avevi bisogno. Sei piccolo, ti siedi, lo guardi, sei felice, pensi... Questo non è il film più bello che abbia mai visto, ma potrebbe. Ma potrebbe. Potrebbe tranquillo, è lì, ci manca poco. E poi, come tutti i film di grande successo, ovviamente, devo dirti che Speed ha avuto un seguito. Eh, infatti io, Disney Plus mi ha consigliato Speed 2. Ma dimmi tu, lo devo vedere? Ti dico due cose. È ambientato su una barca, ma il grande problema di Speed 2 è che non c'è Keanu Reeves. Non lo vedrò mai. 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 E infatti mi ha spezzato il cuore perché i due personaggi si sono lasciati. E lei sta con un tizio nuovo e a me questa cosa c'è... Non l'ho accetto, no, 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 no. Non è canon, palesemente. Non è canon. Non è canon. O è ambientato in un altro multiverso, che io non voglio conoscere, o non è canon, perché ho deciso così. Se vuoi vederlo senza farti rodere lo stomaco troppo, il mio consiglio è guardati l'ultima mezz'ora, tipo. Ok. Perché c'è l'equivalente del finale con l'autobus, però con una barca, e tu dici come fanno a fare questa cosa su una barca. Tra l'altro è talmente diverso il film che quando lo vedi non avevo capito che era il seguito di Speed. No, e quindi ti dico... Io ho guardato la prima di Anna Montana. Non ti dico di guardare tutto Speed 2, ma l'ultima mezz'ora se la guardi mi dici... La vedrò, assolutamente sì. Mi fai proprio... Finiamo questa cosa infiocchettata bene bene perché era un momento. No, lo vedrò però. Mi hai messo molta curiosità e poi appunto avendo molto amato Speed, adesso sono curiosa. Sei una Speed Head adesso. Sì, esatto, assolutamente. Quindi la mia missione è compiuta. Però se non pensavo, perché te l'ho detto, mi aspettavo una cosa completamente diversa da un film che si chiama Speed. Ho capito che vanno veloci, però... Ma quanto? Cioè comunque stanno più o meno sui 50, quindi non è che vanno così veloci. Sì, vabbè, sì, però sono 50 migliorari, che sono i 70 per noi. Cioè, non so se ti è passata questa cosa. No, ovviamente no, ma secondo te l'ho capito. Ma stai scherzando? Mi apri un mondo. Ma è tutto un film diverso per lei. Ancora più scioccata. Ah, è vero che loro misurano le cose in modo diverso. E quindi, aspetta, quindi... Vabbè, comunque 70 non è comunque così veloce, dai. Vabbè, sì, un autobus che va ai 70, qui all'hotel... Non lo so, quanto vanno gli autobus? A Milano? Ma in generale. Non hai 70, però. Non hai 70, vabbè, ok. Beh, ho imparato tante cose. Oggi ho imparato un sacco di cose. Grazie, Speed. Grazie, Speed. Divertente, educativo. Insegnami, esatto, insegnami a vivere, perché io da sola proprio... Beh, io sono molto contento che questo esperimento sia riuscito. È stato fantastico. Se ti è piaciuto Speed, ti sento ancora più vicino. No, mi sono troppo divertita. Esatto. La nostra amicizia è finalmente a un livello superiore. Grazie per esserti prestata. Grazie a te per avermi consigliato questo film. E niente, quindi noi... Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Oddio, ti devo far vedere un film assurdo la prossima volta. Oh, mamma mia. Non sei preparato. Ma forse sì. No, non sono preparato. Ma forse sì. No, non sei preparato assolutamente. Però... Però ti dirò, non è neanche il peggiore, quindi... Ci sono forse film brutti nella tua lista? Io non credo. No. No, neanche... Però film molto assurdi, sì. Ma io sono pronto. Io ormai... Ma lo so, ma lo so. Chiudiamo, quindi vi salutiamo. Grazie mille per averci ascoltato. Grazie mille. Se volete vedere Speed, fatelo. E vi piaci come... Fatelo. Solo complimenti, no? Critiche. E alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.